Continuiamo quindi l'esecuzione dell'esercizio sul libretto dei voti, riprendendo dal punto in cui eravamo rimasti. Se ricordate abbiamo fatto la volta scorsa i punti 1 e 2 che erano proposti in questo testo, quindi inserire nel libretto 10 oggetti a piacere e stampare tutti i corsi in cui il voto è pari a 25. E ci siamo impegnati a cercare di fare in modo che la soluzione che trovavamo fosse il più possibile ad alto livello, cercando di sfruttare effettivamente oggetti e collection e non perderci dentro la gestione dei singoli variabili oppure i cicli sui singoli elementi. Andiamo avanti quindi, facendo alcuni dei punti successivi in questo video. Il punto 3 ci chiede di ricercare nel libretto il voto di un esame dato il nome del corso. Quindi noi dobbiamo cercare all'interno del nostro libretto un esame conoscendo il nome del corso. Come? Allora proviamo questa volta a partire dal main, dal test libretto. Qui noi immaginiamo, allora, magari aggiungiamo qualche commento in modo da ricordarci cosa stavamo facendo. Quindi inserire nel libretto l'elenco dei voti è punto 1, lo ricopiamo qua, inserire alcuni voti. E li aggiungiamo qua. E poi diceva, ok, stampare tutti i corsi di cui voto è pari a 25. Quindi questo è il punto 2. L'abbiamo inserito qua in due modi diversi. Stampa tutti i voti, 2, punto 2. Stampa tutti i voti uguali a 28. Abbiamo scelto 28 anziché 25 perché crediamo in noi stessi. A questo punto, punto 3, era cerca un esame conoscendo il nome del corso. Quindi cerca un esame superato conoscendo il corso del corso. Quindi noi partiamo dalla conoscenza del nome di un corso che vogliamo cercare. Ad esempio può essere il corso di analisi 2. e vogliamo chiedere al nostro libretto, per favore, dicci qual è il voto che abbiamo superato. Quali sono le informazioni su questo esame superato. Quindi avremo un metodo, lib, punto, cerca, nome corso, a cui passerò il nome corso come parametro. E questo metodo cosa mi restituirà? Allora, io posso immaginarmelo anche qua in due modi. Posso immaginarmi che questo metodo mi restituisca il voto, il numero. Quindi in questo caso mi restituirà, l'analisi 2 cosa avevo preso? Avevo preso 28. Quindi mi restituirà 28. Però immaginiamo che domani ci servirà magari conoscere la data in cui abbiamo ottenuto quel voto. Allora ci serve un altro metodo che sarà la cerca, la data del corso, eccetera, eccetera. Di nuovo, anche qui, visto che abbiamo cercato e trovato un elemento, tanto vale restituire l'oggetto corrispondente. L'oggetto voto, quindi voto di analisi, sarà un oggetto che ovviamente poi contiene anche l'informazione sul voto. Quindi se io poi voglio dire che voto ho preso, punto print line, in cui potrò stampare il voto di analisi 2, nome corso, e e poi ci metterò ovviamente, fatemi fare spazio qua all'editor, il nome, il voto di analisi 2 è votoanalisi punto getvoto. Quindi avendo l'oggetto io poi posso estrarre, se mi serve il voto posso estrarre il voto, se mi serve la data posso estrarre la data, posso fare esattamente ciò che voglio con questo oggetto. Quindi anche qua il testo ti diceva dimmi quanto hai preso in quell'esame di cui ti passo il nome, io ti faccio di meglio, ti do tutte le informazioni che ho a partire di quell'esame e quindi poi tu mi restituirai, tu utilizzerai poi l'informazione che ti servono. Cerca nome corso, ovviamente è un metodo che non esiste ancora e quindi lo possiamo creare. Anche qua un modo comodo per creare il metodo è sempre andare, quando Eclipse si segnala l'errore dicendo che il metodo non esiste, mi dà un suggerimento del tipo crea un metodo all'interno di libretto. e quindi mi porta automaticamente nella classe di libretto e mi crea uno scheletro di funzione. Già capisce quali sono gli argomenti, riceve una stringa che è il nome del corso e restituirà un oggetto di tipo vuoto. Li capisce dal contesto in cui l'avevo chiamato. Quindi a me non rimane che scrive il commento, quindi dato il nome di un corso, ricerca se quell'esame esiste, nel libretto ed in caso affermativo ritorna restituisce l'oggetto vuoto corrispondente. Pondente. Punto. Può darsi però che l'esame non esista, non l'abbiamo ancora superato. Allora in questo caso cosa fa questo metodo? Potrebbe fare due cose. Potrebbe generare un'eccezione, cerca nome corso di fisica 2, non c'è eccezione. Oppure restituisce null. Siamo noi che dobbiamo decidere se sia errato cercare un corso che non esiste e allora genero un'eccezione perché così blocco il programma, il programmatore è cosciente che ha fatto qualcosa che non doveva. Oppure se può capitare di cercare un corso che non esiste, semplicemente lo devo segnalare dicendo tu mi hai chiesto questo dato ma questo dato non c'è e quindi ti restituisco null. In questo caso mi sembra più sensato restituire un null perché è legittimo cercare un voto e poi se non lo trovi va beh, allora restituirai un null. Quindi nel caso in cui se il voto non esiste, se l'esame non esiste, restituisce null. Null. e quindi parametri nome del corso sono il nome dell'esame da cercare return è il voto corrispondente oppure null se non esiste. Quindi noi abbiamo la nostra documentazione. Già che ci siamo, visto che stiamo lavorando sul javadoc vi do due informazioni sulla sintassi ogni volta che dentro il javadoc vogliamo inserire il nome di un oggetto l'oggetto vuoto l'oggetto vuoto è possibile inserire una parola chiave code non sull'arte link in questo modo e questo farà sì che nella documentazione quando andate sulla parola voto diventerà un link che vi porta alla documentazione dell'oggetto voto quindi rende navigabile la documentazione quindi ogni qualvolta usate il nome di una classe conviene includerlo in questa sintassi parentesi graffa chioccio la link in modo da rendere anche più fruibile la documentazione perché può essere navigata mentre invece l'altra sintassi che è quella code permette di formattare una determinata parola come vedete qua è scritto in carattere fisso e quindi si capisce che è una stringa del linguaggio e non una parola di spiegazione quindi tipicamente il classico font che si usa a larghezza fissa che si usa per descrivere il codice ok questa è un po' estetica ma anche un po' usabilità allora come facciamo a cercare un elemento all'interno di una collection noi abbiamo la nostra array list che è qua il nostro la chiamavamo voti e dobbiamo cercare un elemento all'interno di dei spunto voti quali metodi ci sono andiamo un po' a ripassare c'è un un metodo contains che mi dice se la array list contiene un certo oggetto oppure no oppure c'è un metodo dunque dove è la i di index of index of che restituisce l'indice della prima occorrenza dell'elemento specificato però in questo caso purtroppo richiede che l'oggetto che sto cercando cioè il parametro di index of quindi questo metodo andrebbe benissimo perché gli passo un oggetto e gli dice guarda che questo oggetto è alla posizione 7 oppure mi istituisce meno 1 se quell'oggetto non c'è il problema è che lui vuole un oggetto uguale a quello che è inserito nella lista quindi dovrei avere l'oggetto voto esattamente uguale all'oggetto che conosco questo chiaramente non è possibile perché io se io già conoscessi la data e il voto che ho ottenuto non mi servirebbe questo metodo il problema appunto è che non mi fa la ricerca usando solamente il nome del corso ma mi ricerca un oggetto che sia esattamente identico a quello che conosco come posso risolvere questo problema lo posso risolvere come sempre in due modi il primo modo è quello più semplice dico vabbè ok non c'è nessun metodo predefinito per ricercare all'interno di una lista un voto il cui nome del corso sia ciò che voglio e allora me lo faccio a mano e quindi me li vado a scandire tutti dirò che il voto che voglio restituire resalt uguale null vado a analizzare tutti gli elementi for voto voto due punti dis punto voti analizzare voto v due punti dis punto voti aperta graffa a questo punto vado a confrontare se il nome del corso è uguale al nome del voto v v punto get corso se due stringhe sono uguali allora perfetto posso ritornare una parentesi graffa volevo mettere return v altrimenti return null o return v lo stesso mettiamo null così più esplicito quindi io ho definito una variabile result return si in questo caso non serve neanche quindi possiamo eliminarla quindi io itero l'array se trovo un elemento il cui nome get corso dell'elemento v è uguale al nome del corso che sto cercando allora restituiscimi il riferimento a quell'elemento se esaurisco il for senza trovarlo mai allora ritornami null questo è l'implementazione semplice e dovrebbe funzionare proviamo a salvare andare su test libretto salvare test libretto facciamo un run e mi dovrebbe dire che il voto di analisi è 28 vediamo un po' se è vero ingrandiamo la finestra non trovo mai dove va il bottoncino qua e mi dice che il voto di analisi 2 è 28 che è ciò che volevamo nel nostro terzo esempio e quindi l'abbiamo risolto esiste un modo anche qua un pochino più evoluto di fare la stessa cosa cioè di fare in modo che facciamo lavorare l'array list anziché lavorare noi stessi possiamo andare a guardare meglio il metodo che avevamo adocchiato prima dis.voti.indexof ritorna leggiamo insieme la documentazione è importante sapere leggere la documentazione restituisce l'indice della prima occorrenza dell'elemento specificato in questa lista oppure meno 1 se la lista non contiene l'elemento formalmente e qui mi spiega cosa fa davvero ritorna l'indice i più basso tale per cui l'espressione object.equals o get di sia vera manca una parola search that object.equals is true manca una parola nella documentazione questo cosa vuol dire? vuol dire che il metodo index.of quando va a cercare un oggetto se esiste nella 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 collection nella lista in questo caso quindi cercherà un voto di voto cercato come fa a sapere se il voto cercato se il primo secondo il terzo il quarto elemento corrispondono al voto cercato questo qua è un oggetto tipo voto e come fa a confrontare qual è il criterio con cui lui può confrontare due oggetti quindi immaginiamo abbiamo una lista che contiene tanti oggetti abbiamo un oggetto di cui conosciamo in realtà solamente il nome e lui cerca di confrontare l'oggetto col primo secondo terzo quarto quinto elemento e si chiede quale di questi è uguale all'oggetto cercato come fa a confrontare qual è il criterio di confronto ai due oggetti beh a priori non si può dire nel senso che ci sono alcuni oggetti che per essere considerati uguali devono avere tutti i campi uguali che ne so se ho le coordinate di un punto due punti sono uguali se hanno sia la x che la y corrispondente se invece ho un oggetto che mi contiene nome, cognome e codice fiscale di una persona è sufficiente confrontare il codice fiscale perché se i codici fiscali sono uguali allora gli oggetti tutti gli altri dati nome, cognome data di nascita eccetera dovranno a loro volta essere uguali quindi in generale Java non può sapere qual è il criterio di uguaglianza di due oggetti lui si si fida del fatto che ogni singolo oggetto sia in grado di dire qual è il proprio criterio di uguaglianza quindi un oggetto dice guarda che io considerami uguale a un altro oggetto dello stesso tipo se abbiamo questo campo in comune se abbiamo questi due campi in comune e quindi tutte le funzioni tutti i metodi come index.of che ricercano gli elementi e vanno a valutare l'uguaglianza e la differenza si fidano della capacità degli oggetti di confrontarsi tra di loro raccogliamo le idee e la conclusione a cui arriviamo è che se noi specificassimo nella classe voto quindi torno nella classe voto se noi specificassimo il criterio di uguaglianza quindi un metodo equals allora e questo metodo equals andasse a confrontare solamente il nome del corso il che ha senso perché non è possibile dare due esami con lo stesso nome due volte lo stesso corso il corso è un'informazione univoca due voti sono uguali se hanno lo stesso è lo stesso voto se sto parlando del voto di nasi 2 e il voto di nasi 2 ovviamente è lo stesso voto non ho due voti diversi dati in due date diverse dello stesso esame se stiamo parlando di un liberetto dei voti superati se avessimo anche il codice del corso questo varrebbe ancora maggior ragione ma per ora abbiamo il nome e ci basta quindi noi possiamo decidere che due oggetti di tipo voto li consideriamo uguali se il nome del corso a cui fare un riferimento è identico e quindi poi index.of lavorerà su questa assunzione su queste ipotesi andiamo a vedere come fare beh semplicemente basterà aggiungere alla classe voto il metodo equals anche qua anche in questo eclipse ci aiuta con il metodo source vedete che tra le varie voci ce n'è una che dice genera il metodo equals in realtà lui dice genera il metodo hashcode e equals perché hashcode e equals sono due metodi che devono essere sempre definiti insieme devono essere collegati tra di loro poi quando vedremo le funzioni di hash lo capiremo molto meglio per il momento soprassediamo perché a noi interessa per il momento solamente il metodo equals e già eclipse mi chiede ok allora tu vuoi che un oggetto di tipo vuoto sia considerato uguale a un altro oggetto di tipo vuoto se tutti e tre i campi sono uguali o se solo il nome del corso è uguale in questo caso solo il nome del corso mi basta che sia uguale e quindi posso generare questo metodo di confronto e lui mi genera un metodo la funzione hashcode e la funzione equals che fa tutta una serie di confronti ma alla fine quello che vediamo è che fa il confronto chiave è se corso cioè vedete che questo metodo equals si applica un oggetto e riceve come parametro un altro oggetto dello stesso tipo e alla fine dopo tutti i controlli che di fatto verificano se l'oggetto esiste non è nullo è dello stesso tipo eccetera eccetera ma il succo del confronto è questo cioè due oggetti sono considerati uguali e quindi ritorna vero se il nome del corso l'attributo corso è uguale all'attributo corso dell'altro e quindi vedete che anche qua Eclipse ha creato una funzione che lavora sul principio di delega la classe voto per definire la propria uguaglianza delega all'uguaglianza dell'attributo corso se avessimo chiesto che l'uguaglianza dipendesse da più di un attributo ovviamente qui non avremmo solamente una corso equal corso avremmo cost equal corso and data equals data and voto uguale uguale other punto voto in questo caso uguale non equals perché è un intero e non è un oggetto ho fatto generare questo metodo da Eclipse perché se l'avessimo scritto a mano molto probabilmente avremmo scritto solamente queste tre righe e ci saremmo dimenticati di tutta una serie di altri casi particolari confrontare un oggetto con se stesso se l'oggetto da confrontare è nullo eccetera eccetera tutta una serie di altri casi che invece bisogna considerare è opportuno considerare per fortuna chi ha scritto questo automatismo di Eclipse ha fatto le cose e sa fare le cose meglio di noi poi vi dicevo che è stata generata in sincrono anche la funzione NashCode che lavora sull'attributo corso però di questo non parliamo ancora oggi allora che cosa abbiamo fatto il passo avanti che abbiamo fatto è quello di dire la classe voto è in grado da sola di dire quando due voti sono uguali o quando due voti sono diversi allora io posso usare la conoscenza della classe voto quindi ridefinire questa funzione fatemela commentare in questo modo la versione vecchia che funzionava per carità però richiedeva a noi di fare il loop e fare il confronto diciamo dei singoli campi dirò alla lista voti vami a cercare se per caro c'è un voto uguale a un altro voto che ti sto specificando che ha lo stesso nome e poi gli altri due campi sono devo anche ora passare un voto e una data ma non mi interessano e allora avrò un intero che mi rappresenta la posizione di quell'elemento allora che cosa ho fatto qua qui innanzitutto ho creato un nuovo oggetto di tipo voto i cui attributi dovrebbero essere tre nome voto e data io conosco solamente il nome il voto e la data li lascio vuoti la data è un oggetto quindi posso mettere null il voto è un int quindi non posso mettere null e dovrò mettere un intero qualunque zero va bene questo voto attenzione non viene inserito nel libretto è semplicemente un oggetto voto che mi sono creato passo questo oggetto voto al metodo indexOf della lista il metodo indexOf andrà a cercare dentro la lista qual è quell'oggetto quel voto reale quel vero oggetto che è dentro il libretto che soddisfa la condizione di equals con questo oggetto che gli ho passato io so che la condizione di equals andrà solo a vedere il nome del corso e quindi non si spaventerà del fatto che questi due campi sono vuoti mancano allora a questo punto POS mi restituisce la posizione l'indice nell'array di dove si trova eventualmente questo voto che corrisponde che ha il nome del corso corrispondente e quindi se posizione è fosse è diverso da meno uno allora io so che posso ritornare dis punto voti punto get di posizione altrimenti else ritornerò un null quindi perché pause l'index of ritorna meno uno se non trova l'elemento se trova l'elemento invece mi da l'indice quindi mi da è nella posizione due io ovviamente ho promesso di istituire riferimento all'oggetto allora posso usare il metodo get per estrarre l'elemento in posizione due dall'area list e lo restituisco allora con questa modifica posso tornare nel test libretto e in teoria non cambia nulla il voto di 9 di 2 è 28 continua a dirmelo non è cambiato il voto se io cercassi adesso invece di dire qual è un voto mancante voto mancante e cerchiamo un nome di corso che non esiste tipo appunto fisica 1 allora il voto diremo che voto di fisica 1 mi dirà voto mancante punto getvoto mi dovrebbe dire che non c'è infatti mi dice null pointer exception si accorge che non c'è voto mancante è un null e quindi non posso chiamare il metodo getvoto proviamo a stampare voto mancante se non vogliamo l'eccezione verifichiamo semplicemente voto di fisica 1 se ampiamo semplicemente voto mancante mi stamperà null cioè non esiste sappiamo che è null quindi ricordiamoci sempre anche quando creiamo il voto di analisi 2 è 28 e il voto di fisica 1 è null quindi in realtà c'è sempre un esempio positivo e un esempio negativo quando creiamo i test non pensiamo sempre solo al caso favorevole ma pensiamo anche al caso malato al caso in cui non non trova l'elemento che cerca quindi ricordiamoci di verificare che il programma funzioni correttamente sia nel caso fortunato che nel caso meno fortunato e anche qua abbiamo imparato a usare index of insieme a equals per evitare di fare un ciclo ma soprattutto in questa istruzione qua evitiamo anche di entrare nel dettaglio di qual è il meccanismo con cui il voto considera l'uguaglianza o la non uguaglianza tra due elementi ok passiamo al punto 3 del punto 4 esercizio che mi dice creare un nuovo oggetto voto e verificare se tale valutazione esiste già nel libretto cioè se esiste già lo stesso esame con lo stesso voto quindi un metodo che verifichi se un voto esiste già oppure no senza inserirlo chiaramente e poi questo va in realtà di pari passo col punto 5 in cui creo un nuovo oggetto voto e verifico se esiste un conflitto con il libretto cioè lo stesso esame e voto diverso quindi prima di tutto mi chiedo se l'esame è uguale oppure se l'esame è appunto c'è un conflitto perché contiene già un voto per quell'esame ma quel voto non è quello che ho specificato io allora questi li possiamo fare insieme possiamo anche qua nel metodo libretto aggiungere altri nella classe libretto possiamo aggiungere altri due metodi public in questo caso mi basta un boolean is duplicato di voto e poi avrò un altro un altro metodo public boolean is conflitto del voto vi il duplicato quindi ritorna vero se ritorna true quindi code true se il voto vi esiste nel libretto con la stessa valutazione se non il voto diciamo così il corso specificato da vi che vi contiene tutto esiste nel libretto con la stessa valutazione se non esiste o se la valutazione è diversa ritorna a 0 ritorna a false ok quindi v è il voto da cercare cercare e return è l'esistenza di un duplicato allora questo caso ce l'abbiamo facile perché abbiamo appena creato il metodo cerca nome corso che riceve come parametro il nome di un corso e quindi io posso chiedergli guarda dimmi se per caso c'è se esiste un voto analogo dammi l'oggetto corrispondente con cerca nome corso db.getcorso quindi anche qua uso i metodi che ho già mi chiamo i metodi da solo in modo da semplificarmi la vita a questo punto questo esiste può essere null oppure non null se è null quindi il corso non esiste non è di sicuro un duplicato quindi se esiste uguale null allora return true se non l'ho trovato quindi non è un duplicato di sicuro se invece esiste quindi a questo punto l'oggetto esiste non è null allora devo andare a vedere il voto se il esiste punto getVoto uguale uguale a v.getVoto se hanno lo stesso voto allora return true altrimenti return false quindi se esiste e hanno lo stesso voto è vero è un duplicato se esiste e non hanno lo stesso voto allora non è un duplicato questo codice è un po' pedante perché fa una if e poi se il risultato è vero ritorna vero se il risultato è falso della if ritorna falso in realtà si può accorciare tutto dicendo semplicemente ritornami il risultato del confronto se esiste punto getVoto uguale uguale a v.getVoto e quindi evito di fare questa if non non molto leggibile ritorno il valore di verità vero o falso di questa espressione e il conflitto funziona esattamente nello stesso modo nel senso che un voto va in conflitto scriviamo la documentazione perché ci aiuta sempre a capire determina se esiste un voto con lo stesso nome corso ma voto diverso votazione diversa e quindi possiamo riusare tutto nel senso che prima posso cercare se esiste e poi però restituirò il contrario nel senso che andrò a vedere se è diverso not uguale scusate qui ho un font che mi modifica queste cose lo dovrò correggere per le prossime volte altrimenti non è facilmente leggibile quindi se il caso di conflitto è il caso in cui il corso esiste e il voto è diverso il caso in cui non esista avevo sbagliato prima scusate is duplicato se non esiste false se non esiste sicuramente non è duplicato quindi avevo scritto true qua la riga 103 è sbagliato devo scrivere false e idem sotto quindi se non esiste vado a confrontare i voti e vedo se sono uguali oppure no allora in questo caso posso tornare sul mio metodo di test e aggiungere queste queste verifiche del punto 4 e del punto 5 cerca o verifica voti duplicati o voti in conflitto quindi noi possiamo avere un voto pensiamo questa volta prendiamo economia ok voto economia 2 che è un nuovo oggetto di tipo voto che ha come nome economia come voto noi avevamo preso 24 quindi rimettiamo 24 e una data ad esempio oggi local date punto now supponiamo di averla passata oggi tanto la data non viene confrontata oppure posso avere un'economia 3 in cui ho preso non 24 ma 21 allora mi posso chiedere se system.out.println potrò dire che il voto con economia con 24 è duplicato due punti slash conflitto due punti cioè io qua scriverò duplicato vero falso sì no e conflitto sì no quindi qua aggiungerò duplicato più qui ci vado a inserire il valore di libretto punto is duplicato di economia 2 andiamo un po' a capo altrimenti non ci capiamo più più allora vado a capo qui quindi scriverò economia con 24 è duplicato vero o falso slash è in conflitto vero o falso e quindi qua ci aggiungerò ancora un altro più in cui metterò lib punto is conflitto questa volta ok e questa cosa qua la posso replicare identica con economia con 21 economia 3 economia 3 vediamo cosa mi dice mi dovrà dire che economia con 24 è duplicato sì e conflitto no economia con 21 è duplicato no ma conflitto sì vediamo allora economia con 21 è duplicato sì e conflitto no economia con 21 è duplicato no e conflitto sì quindi abbiamo anche implementato correttamente quest'altra funzionalità che è il punti che sono i punti 4 e 5 andiamo a vedere andiamo a vedere come li abbiamo fatti li abbiamo fatti sempre usando dei metodi che già avevamo quindi questi metodi spesso spendiamo più tempo a ragionare su quale sia il modo migliore che non a scrivere veramente il codice e così ci sentiamo intelligenti nel farlo perché riusciamo a sfruttare diciamo così la capacità del linguaggio e della libreria vediamo cosa ci chiede ancora l'esercizio successivamente che è molto collegato a quello precedente il punto 6 mi dice modifica il metodo libretto add quindi non andare a modificare ad aggiungere altri metodi ma modifica libretto add in modo da evitare di inserire valutazioni duplicate oppure valutazioni in conflitto è giusto cioè nel senso che quando io faccio un add o perdono quando io faccio un add aggiungo un voto al libretto libretto punto add voto 1 voto 2 eccetera il libretto dovrebbe rifiutarsi di accettare un voto se questo esame esiste già sia che il voto sia lo stesso ma magari la data è cambiata sia che il voto sia diverso e quindi è un conflitto io dovrei evitare di inserirlo quindi il metodo add che a questo punto possiamo con control click andare direttamente alla definizione che finora non aveva intelligenza semplicemente delegava al release sottostante e quindi qualunque cosa mi arriva io lo aggiungo a questo punto può fare dei controlli in più può fare dei controlli in più davanti dicendo guarda se il voto che sto per raggiungere andrebbe in conflitto o sarebbe un duplicato non lo aggiungo altrimenti lo aggiungo quindi io potrò dire se per caso c'è un conflitto tra il voto e l'altro quindi nel libretto this.voti scusate this che è l'oggetto libretto fa conflitto con v oppure this è in questo libretto è duplicato contiene come duplicato v allora non inserire il voto altrimenti tranquillamente inserisci il voto inserisci il voto perché non è in conflitto né duplicato e quindi lo possiamo spostare qua dentro questa parte quindi anche qua uso dei metodi che ho già definito qualcuno potrebbe dire ma guarda che se fai l'oro di queste due il conflitto è duplicato potresti anche semplicemente controllare se esiste il nome quindi chiamare solamente il metodo cerca nome corso sì è vero sarebbe una piccola ottimizzazione perché evita di chiamare cerca nome corso due volte per il momento questo diciamo così è molto chiaro perché altrimenti uno si dice ma perché cerchi il nome del corso quando il testo ti dice vai a verificare i conflitti o i duplicati qua è molto esplicito poi si legge da sola questa funzione che cosa fa chiaramente perde un pochino di efficienza perché il conflitto internamente chiama cerca nome corso lo chiama qua il duplicato e il conflitto anche chiama cerca nome corso quindi la funzione cerca nome corso viene chiamata due volte con lo stesso parametro è una piccola inefficienza che magari potremo ottimizzare facciamo attenzione però a non ottimizzare mai troppo presto quindi la prima la nostra prima priorità sempre dovrebbe essere fare delle scelte progettuali sane e quindi in cui il progetto complessivo sia ottimizzato poi la singola riga di codici la singola chiamata la funzione non dobbiamo mai pensare subito all'ottimizzazione della stessa ma piuttosto alla funzionalità cioè verifichiamo che prima funzioni bene poi se è il caso lo ottimizziamo quando dico se è il caso lo ottimizziamo vuol dire che quella funzione lì magari ha impatto sullo 0,01% del tempo di esecuzione ma cosa me ne frega di ottimizzarla se invece mi accorgo che quella funzione ha impatto sul 20-25% del tempo di esecuzione allora cercherò di ottimizzarla ma non facciamoci mai diciamo così guidare da un'ottimizzazione precoce quando in realtà stiamo ancora cercando di organizzare il programma le maggiori ottimizzazioni si ottengono non tanto eliminando la funzioncina ma scegliendo le strutture dati giuste e usandoli al meglio quindi stiamo cercando appunto di lavorare a livello più alto proprio per far sì di far lavorare le librerie che sono sicuramente più ottimizzate del nostro codice però questo sicuramente è un punto in cui magari potremmo prendere nota un domani potremmo renderlo più veloce sappiamo già come fare anche se si perde in leggibilità ma invece l'altra cosa che mi preoccupa un po' di questo metodo per come l'abbiamo implementato è questo ramo qui cioè se il voto non lo devo inserire non ha nulla da fare va bene ovviamente non devo inserirlo ma il chiamante quando chiama add come fa a sapere se l'operazione è andata a buon fine perché finora l'operazione di add andava sempre a buon fine se è un oggetto vuoto lui me lo inserisce adesso ci sono dei casi in cui l'add non ha successo non va a buon fine allora anche qua possiamo scegliere due cose o possiamo decidere che l'operazione add è responsabilità del chiamante verificare che il voto sia inseribile e allora se poi ci prova a inserire un voto che non deve eccezione ti lancio un'eccezione e quindi in qualche modo sarebbe test libretto che ha la responsabilità di dire chiediamo prima se per caso è un duplicato chiediamo prima se per caso è in conflitto e se no lo provo ad aggiungere però immaginate che è pesante perché ogni volta che chiamo add devo preventivamente fare questi controlli perché altrimenti se faccio un add senza fare questi controlli prima il programma va in eccezione e si blocca sarebbe molto pesante dal punto di vista del chiamante in questo caso invece potrebbe essere più semplice nel senso che diciamo che è legittimo provare a inserire un voto semplicemente se quel voto non si riesce a inserire allora te lo segnalo te lo segnalo in qualche modo quindi potrei dire te lo segnalo restituendoti un valore che non è un nessun valore ma un valore booleano e quindi ti potrò dire guarda io se l'operazione add ha successo e riesco ad aggiungerlo ti dico che ce l'ho fatta return true se invece l'operazione add non ha avuto successo segnalo il problema segnalo al chiamante che non ha avuto successo non ha avuto successo e e quindi semplicemente qua dobbiamo ricordarci di aggiungere returns true se ha inserito l'elemento il voto invece false se non l'ha inserito perché era in conflitto oppure è all'uplicato applicato allora a questo punto il libretto si protegge non inserirà mai dei voti incoerenti con la semantica di un libretto dove un esame può essere dato una volta sola il metodo test libretto quando fa add o ignora il valore di ritorno quindi in questo caso non è più void ma è boolean ma lui il metodo test libretto non va a leggere questo valore oppure dovrà controllare ad esempio con una if la possiamo mettere qua if add di questo uguale a false allora posso dire punto out punto print line errore nel sedimento di e poi ci aggiungo il voto no di economia perché l'oggetto voto non ce l'ho ops qua dentro e quindi se sono una persona diligente so che chiamo questo metodo so che questo metodo può fallire e allora mi preoccupo di andare a controllare se per caso mi ha comunicato un fallimento oppure no tutte le volte io lo inserisco se invece sono tranquillo lo inserisco senza controllare ma in questo caso il programma non dà l'eccezione sicuramente questo programma non inserirà mai dei voti che non è legittimo inserire perché questi due criteri di validità che sono appunto non essere in conflitto e non essere in duplicato vengono verificati preventivamente a ogni singola aggiunta quindi di nuovo il cuore del metodo add è sempre delegare all'array list sottostante o in generale all'array list sottostante ma questo delega avviene solo dopo che sono stati verificati una serie di controlli di congruità che svolgiamo con gli altri metodi che abbiamo già definito per questo oggetto quindi in questo caso abbiamo potenziato con questi punti potenziato un pochino questo libretto creando dei metodi di interrogazione di analisi di ricerca e dei metodi un pochino più robusti per quanto riguarda le modifiche adesso l'unica modifica legittima era l'ad e adesso l'abbiamo protetto in modo che non aggiunga voti non validi in realtà dovremmo anche aggiungere altre cose nel senso che non posso aggiungere un voto se non c'è la data non posso aggiungere un voto se non c'è il nome del corso eccetera eccetera sono tutti i controlli che dovrei aggiungere qua prima di chiamare add verifico non solamente che l'oggetto v non sia null perché anche qua uno potrebbe chiamarlo con null devo dire che non sia null ma anche che i suoi campi abbiano un valore minimo legittimo quindi in questo caso magari ci servirebbe un altro metodo di controllo di validità di un certo voto e quindi aggiungerei if this and oppure or is not valid a questo punto insererei delle condizioni di validità in più di minima sanità mentale del voto tra l'altro questo metodo di validità lo potrei definire direttamente dentro voto che è la classe voto che mi sa dire se i dati che ha in suo possesso sono corretti se il voto non è un numero negativo o non è un numero maggiore di 30 eccetera eccetera ok per questa seconda fase io fermerei la lezione a questo punto e per la prossima lezione invece svolgeremo i restanti tre punti gli ultimi tre punti dell'esercizio che diciamo ci chiedono un pochino di lavorare complessivamente sul libretto e non sui singoli voti quindi arrivederci alla prossima lezione grazie